Romagnolo e Benevanto. Montecopiolo e Sassofeltrio dicono addio alle Marche. Con il sì del Senato arriva il via libera definitivo al distacco dei due comuni verso l'Emilia Romagna. Qui siamo a Montecopiolo, dove ieri sera, appena si è diffusa la notizia proveniente da Roma, molti cittadini sono scesi in strada per festeggiare e persino le campane della Chiesa hanno suonato a festa. E noi abbiamo dovuto 14 anni aspettare per poter andare, dopo ce lo siamo preso. I servizi dell'Emilia Romagna a noi ci sembrano molto migliori, dall'ospedale, alla scuola. Non c'è una corriere che va a Pesolo da Villagrande, mentre invece a Rimini ci sono. Le Marche le cancelliamo e ci mettiamo in Romagna, giusto? Il sindaco Pietro Rossi, che all'epoca del referendum aveva 17 anni e quindi non ha potuto votare, e questa mattina non era in ufficio, ma i suoi concittadini qui non parlano d'altro. Dopo una lunga attesa di 14 anni, per molti di loro il sogno diventa realtà. L'80% dei ragazzi nostri va a scuola, il 90% va a scuola in Emilia Romagna. I carabinieri di riferimento erano sempre quelli di San Leo. A lavorare si va all'80% in Emilia Romagna o San Marino. Quindi, tradizioni, culture e quant'altro, siamo romagnoli, soprattutto siamo diventati molto più romagnoli negli ultimi 50 anni. Anche il parroco Don Ivan, che guida una parrocchia che già appartiene alla diocesi di San Marino Montefeltro, sta con i fedeli che a suo tempo votarono per il distacco. Mi ha suonato le campane. La nostra sensibilità è legata alla Romagna, alla provincia di Rimini, e siamo contenti perché è stato un momento importante per tutta la comunità. Siamo stati proprio ignorati, direi, veramente. Cioè, c'è stato proprio un disinteresse, una marginalizzazione che credo che sia non soltanto di Montecopioli in quanto tale, ma che sia di tutte le aree montane, di tutte le aree un po' in difficoltà, che invece di essere agevolate nella loro, diciamo, nella vita comunitaria, sociale delle persone, siamo stati comunque ostacolati, comunque non favoriti in nessun modo. A Sassofè, il trio tra i più agguerriti sostenitori del Sì, c'è senza dubbio il sindaco Bruno Ciucci, una vita passata a guidare questo piccolo comune di 1300 anime. Là c'è il Monte Titano, quello là, e questo qua invece è Rimini. Lì è Cesenatico, adesso non si vede il Grattacielo perché adesso fa scherzo, non si vede il Grattacielo di Cesenatico, e fin qua c'è il Grattacielo di Rimini. Abbiamo lottato per 11 anni e quindi è stato un risultato grande e ne siamo tutti felici. Infatti, quando ho avuto la notizia, per me gioivo, ecco, felicissima di questo risultato. Il nostro vivere quotidiano è Romagna, la scuola è Romagna, la sanità è Romagna, la sanità di eccellenza che abbiamo in Italia è Romagna. Quindi, non è che non ci sono le professionalità nelle Marche, ma non sono nella nostra area, nella nostra zona. Acquaroli l'ha mai sentito? No, Acquaroli per me ha sbagliato, dal mio punto di vista, ha preso una posizione drastica così, e per me l'ha preso perché non conosceva la nostra realtà, altrimenti non poteva fare una cosa del genere. Per il governatore Acquaroli, che da deputato votò sì alla secessione, si tratta di un passaggio molto doloroso. Più sarcastico, invece, Paolini, presidente della provincia pesarese, che da oggi diventa un po' più piccola nella cartina geografica. Romagnoli si nasce, non si diventa. Vai andando! Pu刎ato! Luar save! Come Sayonara! patologia! ...